Lesson Process è un'associazione internazionale che opera in 145 città e che ad oggi ha 25 anni di storia dedicata all'aiuto delle donne in difficoltà e per aiutarle a ritrovare una motivazione innanzitutto e quindi a lavorare di nuovo. Oggi per noi è una giornata molto speciale perché si festeggia la festa della donna e il lavoro che stiamo portando avanti oggi permetterà sicuramente a molte donne di trovare la loro strada nel mondo del lavoro. Queste iniziative sono importantissime, soprattutto fatte insieme ad altri colleghi perché fare del bene fa bene e farle insieme rende ancora tutto molto più bello. Oggi siamo qua con Amazon, che ringrazio tantissimo perché questa è la nostra nuova sede. È una esperienza molto bella, aiutando la comunità e le donne nella nostra comunità con interviste e lavorazioni e preparando questo processo. Ed è molto bello sapere che il nostro aiuto sarà di supporto alle tantissime donne che stanno cercando di ritrovare un futuro professionale e migliore.